Ciao ragazzi, eccoci qua come promesso nell'altra video-lezione a suonare e a vedere le posizioni del flauto di questo brano che è sempre, andiamo, inquadriamo, Giordi di Fabrizio di Andrè Ok, quindi iniziamolo qua, abbiamo inquadrato tutto Io come vi ho detto, vi analizzerò le posizioni e le particolarità della prima parte Ok, della prima parte, quindi questi due pentagrammi Allora, voi dovete ricordare una cosa sempre, anche tra le altre cose che dovete ricordare non dovete mai assolutamente suonare queste note che sono qua sopra perché sono gli accordi assolutamente, piuttosto le cancellate Poi vi chiedo veramente, siate sinceri, io non voglio vedere il vostro spartito quando suonate ma non scrivete le note sotto, impiegate un po', chi ha più difficoltà mi suona solamente questa prima parte invece di tutto, chi ha ancora difficoltà ha anche solo la prima parte, chi ha ancora difficoltà ha anche solo qualche battuta un pezzo alla volta però, con pazienza, poi vedrete che riuscirete E' vero, magari ci sono determinate situazioni che dicevano, vabbè, intanto non riuscirò mai ma non è vero, non è vero, perché i meccanismi che si mettono in atto sono altri Allora, abbiamo detto che siamo con il si bemolle in chiave Quindi tutti questi si, questi, 4, questo si bemolle, questo si bemolle, anche questo, questo, questo e basta si devono suonare bemolli e non naturali Quindi guardiamo già subito la posizione col flauto che abbiamo visto quando avete imparato a suonare il si bemolle Ok, quindi il si naturale è in questo modo Mi raccomando, non togliete mai, non spostate mai il pollice della mano destra perché altrimenti spostate il, come si chiama esattamente la ditteggiatura, va bene, la posizione Allora, vediamo un attimo, abbasso ancora un secondo Perfetto, il si naturale senza alterazioni in chiave, quindi senza questo Si suona in questo modo Ok, con l'indice della mano sinistra e il pollice della mano destra che chiudono i fori Attenzione che il pollice della mano sinistra, ho detto destra prima, comunque sinistra chiude sempre il portavoce dietro Tranne quando, in questo caso, abbiamo il re acuto che si suona, io adesso sorrego qua in fondo così, vedete Ok? Ci siamo? Vedete? Quindi il re si suona con l'indice della mano sinistra che chiude il secondo foro davanti E il portavoce totalmente staccato, aperto Anche l'indice della mano sinistra Questo è un re Ok? E dov'è il re? È questo Questo re qua Questo re quattro Bellissimo Questo re acuto Ok? Io lo suono Mi sto segnando veramente male, scusatemi Allora, facciamo così Li segno in questo modo Ok? Questo re Altrimenti si confondono con quelli che ho segnato come sì Ok? Questi re Ok? Quindi questi quattro Si suonano in quel modo Va bene? Perché poi c'è questo Che invece è il re basso Lo suono sempre giallo Perché è un re Cioè lo segno sempre giallo Ma lo cerchio Allora Vediamo Anche questi Ok? Questi sono re bassi Vediamo Re che chiamiamo tre Re tre Re quattro Allora Il re tre Si suona Così Praticamente Vedete? Trane il mignolo della mano destra Tutti Tutti Fori chiusi Ok? Questo è il re tre Cioè questo Questi Invece il re quattro Cioè questo Questo acuto Si suona come vi ho fatto vedere prima Sorrego perché altrimenti mi cade Ok? Così Portavoce dietro Aperto Aperto Chiuso Ci siamo? Benissimo Cioè la posizione del la Alzo le due dita La Alzo le due dita La posizione del do Chiudo il portavoce Quale do? Quello basso? No Non questo di do Logicamente Questo di do Ci siamo? Non il do Quattro Il do tre Perché il do tre È questo Tutto chiuso Tutto chiuso Il do acuto Il do quattro Poi adesso Avendolo in mano Riuscirei a tenerlo Il do Invece quattro Guardate Come si suona In questo modo Poi basta che io Facchete Sposto Apro Il portavoce Ho il re Quindi il re acuto Il do acuto Ok? Sempre uguale Questo Il re Basso E il do Basso Re acuto Do Scusate Do acuto Ok? Faccio col puntino Re Basso Re Tre Quello basso Do Basso Ci siamo? Ok? Quindi Attenzione A A questa A queste A queste A queste note Se scrivete Do O re Poi non sapete Qual è quello acuto O meno Non sapete la durata Quindi non scrivetelo mai Ma cerchiamo di memorizzarli Pian pianino Un pezzo alla volta Queste tre battute Prima Un altro giorno Faccio queste Avete una settimana Un giorno Mi suono questo Troppo facile Va bene Allora vado avanti Ancora per suonare Faccio due battute Eh? Perché queste sono un po' più difficili Bene Il prossimo giorno Faccio queste altre battute Poi mi fermo Cioè Faccio dei pezzettini Un po' alla volta E poi Alla fine Lo provo tutto assieme Vedrete che Qui funziona tutto Meglio Ancora Cancelliamo Perché altrimenti Diventa tutto Molto Complicato E ritorniamo Nella nostra posizione Detto questo Abbiamo detto In solfeggio Due movimenti Per battuta E abbiamo detto Sempre nel solfeggio Quindi vi consiglio Veramente di sentire Prima quello sul solfeggio Qua si Si Sta in silenzio Un ottavo Cioè Si Si Do E poi si suonano Un Si Si Do Re Re Questa posizione Questo Soprattutto questo È la parte un po' più difficoltosa Con il flauto Ok? Allora La nota Si bemolle L'abbiamo vista Precedentemente Comunque Sul si naturale Ne abbiamo parlato Il si bemolle Che è quello Che dobbiamo Suonare noi Come lo suono Mettendo le dita In posizione di fa Ok? Io lo ricordo Dicendo Fa medio Nel senso Come dire Lo sto Non prendetemi Proprio Per pazzo Però Come dice Beh Faccio Fa il medio Fa medio Ok? Posizione del fa Alzo il medio Della mano sinistra Ok? Fa Alzo il medio Questo Si bemolle Si bemolle Ci siamo? Lo chiudo E fa Ci siamo? Perfetto Quindi Si bemolle E questo Allora Se adesso Vediamo le posizioni La prima nota Un si bemolle Si bemolle Si bemolle Si bemolle Si bemolle Non le sto dicendo Tempo eh Per farvi vedere Le posizioni Seconda battuta Abbiamo La La Terza battuta Sol Fa Quarta battuta Re Basso Vedete? Benissimo Due quarti Tutta la battuta E ribasso Pausa Non suono niente Intanto Guardo quello che c'è dopo Che è un si Quindi dico Un Si Si Adesso devo fare il do O P Quindi cosa faccio? Dal si Questo è un passaggio Magari un po' più difficile Allenatevi Dal si bemolle Io Abbasso Mentre abbasso Il medio Alzo L'indice Tutto il resto Quindi dal si Tac Tim Tac Questa è la posizione Dal si bemolle Passo al do Non tolgo il portavoce È sempre È sempre chiuso dietro eh Si bemolle Do Il re Il re Adesso Il portavoce Ok? Re Re La Allora da re Re Chiudo Quindi re Re Chiudo Poi abbiamo Poi abbiamo E siamo a la Si bemolle Poi abbiamo ancora il do Do Come prima Come prima no? Quindi ci siamo La Si bemolle Quindi la Si bemolle Abbasso e alzo Ok? Do Abbasso e alzo tutti gli altri Pausa Pausa Andiamo avanti Abbiamo Un Si bemolle Si bemolle Do Re Re Do Chiudo solo il portavoce dietro Ci siamo? Poi La Facile Sol Facile Fa Fa Un Fa Questo è il ritmo Ma poi sto sempre ferma Sol Facilissimo Re Scusate Re 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 Un Do Re Sol Quindi le ultime E poi uno o due di pausa E poi ricomincio ancora da capo Ora Proviamo a Suonare Il brano Ok? Attenzione Ok Attenzione Lo faccio lento Ai passaggi più difficoltosi Che abbiamo visto prima Lo rifateli varie volte Prima e due righe Iniziamo Uno Due Oh E E Yeah E' un'altra cosa. Bene, mi sono interrotta e ho verificato che qua ho tenuto lungo un po' di più la pausa perché avevo fatto una registrazione, poi l'ho tagliata, l'ho ripresa, per cui la pausa risulta più lunga di due. Voi contate solamente due finite do, uno, due, un sì, mi raccomando, non prendetelo proprio come esempio perché è un po' più lunga di due e non va bene. Allora, nel tempo che ci rimane vorrevo, vedete, vi ho segnato queste due battute perché questo passaggio ci terrei a farvelo vedere, ok? Con il flauto, ancora più lentamente facciamo questa battuta, quindi un sì, sì, do, re, re, la, sì, do. Quindi conteremo e facciamo un, uno, due. Ci siamo, quindi è un sì, sì, do, re, re, la, sì, do, uno, due. E poi attenzione anche alla velocità, questi non sono difficili, però un po' più il ritmo deve essere corretto, quindi diventa do, la, sol, fa, fa, un, fa, sol. Quindi diventa nella posizione do, la, sol, fa, fa, un, fa, sol, quindi ci siamo? Ok, quindi mi raccomando, soprattutto questo passaggio delle dita, non buttatevi giù, vedrete che ce la farete, assolutamente. Buono studio!